Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Risha Flyer, io DJ03 e oggi faremo rischio e gusto e sorgeremo le caramelle brutte, io prima ho voluto assaggiare una bianca che mi piaceva, non mi è piaciuta però perché era una cacchetta di piccione quindi va bene quindi sta qua, sta là, si, aspetta è caduto il bug e una cosa gossa? No, ho sputtato io la pustola, ah ok, la pustola, ok, siamo partiti col video? Si, siamo già partiti con il video, vai allora comincio io, usiamo lo stesso, chica, gialla, la prima volta che assaggio questa cosa, mutanda pisciona buona brutta, no è banana, dai gira te, banana split che vuol dire però, è banana, oh per fortuna i bianchi, no ci sono ancora 4 di bianchi, oh si è fermato giusto, catarro sputtacchia, fai vedere, quando prendo quello con più zucchero sarà brutto, sarà brutto, sarà brutto, sarà bruttissimo, intanto giro, il dente mi è caduto, come? ma dai, questi catarro mi fanno sempre vedere il dente fai vedere veramente? fai vedere, tu è buono questo catarro, fai vedere? oddio, è caduto il dente veramente? dov'è? dov'è? vai, vai, mangia, vai, scegli tu va mi ha caduto il dente bene che schifo! cos'è, cos'è, cos'è? butta, butta, no perché? è la cacca del piccione però io l'ho mangiata di più io l'ho mangiata più tempo mangiata in posizione non ti distrarre vabbè, vabbè, voglio fare rischia arancione arancione sigaro, vabbè, il sigaro non credo sia molto brutto è buonissimo il sigaro, dai, tutti mangiano i sigari no, solo due di sigari io a colazione sempre mangio i sigari un caffè io intendo giro di nuovo cacca di piccione o gelato all'ananas uffa e cacca è un'attività più veloce che posso, il sigaro no, sia, questo è il camendo da butta è il rifo no, ti giuro vabbè, non vi fido al camendo da butta ma sta mangiando il cane che mangia meglio ha mangiato il cane se li ti piace? la pustola ha mangiato ma se li piace ah, eh se li sto mangiando tocca a me se li non volevo ancora guardarmi vale le piacciono tutte le pustole, brava se li rischia marrone, marrone catargo chi ha assaggiato il catargo? io tu, anch'io io ti consiglio questo qua che è il meno prendo questo niente di colore aspetta che primo rischia rischia cacca di piccione sei fortunata con i piccioni oggi prima di mangiare faccio il segno della croce io il catargo me lo mangio piano se li ho mangiato tutte le schifezze ragazzi no, davvero guarda le è piaciuto più brutta meglio è per lei che belle ma è buono sto catargo si va a girare intanto vai no, aspetta è ma no, ok cerca a te giallo il piscio intanto gira anch'io ma sono di piscio questo giallo giallo, giallo vediamo chi è più fortunato vediamo tutti e due giallo un, due, tre non è buono il piscio sei sicuro davvero pisciano le caramelle è arrivata è buono se li sta aspettando sono buona rischia gusto dei cagni dobbiamo chiamarla così in questo challenge a noi piace il piscio è buono non è sputata sono se li e lui lui è Pino muffa muffa bella muffa poi giallo anche te ah fate si fate insieme dai coppia è il grosso bustela potete fare pure insieme ma andiamo perché si è rotta stiamo pronti partenza via che ho mangiato io muffa che colore era verde la sua non sai di cocomero non sai di cocomero come sanno che sapore ha la muffa qualcuno lo assaggia mancare il formaggio l'anno scorso c'era un rischio a gusto che ti bruciava la piccante la gola no 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 c'era proprio vero c'era erba e qualcosa allora niente ricche ok ecco arriva te li faccio io te li dici grazie ma veramente ti piace che succede muffa 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 l'ultimo che rimane eh viva via muffa tu niente dì perché non hai mangiato cocomero oddio cosa è questa roba cosa è una muffa ma è buonissima dai un po' di formaggio sopra no ma stiamo contando i punti un po' di pane i punti i punti vai vai andata andata dai non fammi il piccione il rosso postola cosa posso scegliere che mi consigliate questa questa io intanto giro anche io ma saldo marrone o catardo come come scusa ma fu ma fu tu ma fu cos'è una bustola me lo dici cos'era cos'è sta bustola cos'è sto schifo sarà per sempre il mistero cos'è sto schifo bustola un brufolo dopo lo cerco su google un brufolo dopo lo cerco su google il traduttore vai 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 devi girare tu ah no bustola vieni subito pronta la bustola la bustola quanto fa schifo dai Giada piacciono le bustole quando mai via che schifessa sei lì ma vuoi finire guardala chi vince vince vabbè se poi qua rimangono lo facciamo così senza girare adesso chiudiamo gli occhi e ne prendiamo una adesso wow si si chiudi io mischio mischio a gusto un nuovo gioco mischio a gusto cos'è marrone questo giallo buono buono banana banana mutanda frisciosa o banana sprint era buona mutanda frisciosa e vai è buono che colore è ciao cos'è buono c'è baroncione sigaro puzzolente un mandorino cinese sigaro no sigaro a me mi è piaciuto il sigaro non era vai vai mischia mischia non guardare ma tanto è inutile guardare e a fare un marrone sono sicuro sigaro no catargo 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 cacca di piccione un'altra volta si vai leviamoli di me gelato all'ananas mi sa è gelato all'ananas no niente gelato ma non c'era gelato all'ananas tutto cacca di piccione era tutta merda di piccione miglia ma Sally buona Sally Sally cosa stai mangiando Sally ma io giro vai prendi che c'è Riccardo fa schifo ma cos'era è un catargo è un catargo schifo schifo pezza giro 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 bene puoi dici catargo eppure cosa o pesca sciroppata pesca ah è andata bene mi sa e dai prenditi una pesca vai vai se mi esce un catargo no no è pesca è pesca mangia ingoia direttamente Riccardo senza masticare cos'è dai forza e coraggio una buonissima pesca sciroppata dai marrone interessante preghia andata ragazzi ultime due allora chi prende io voglio io voglio una mutanda più sciosa ragone no uno due insieme dai ultima alto tre scarta la carta un due tre già è finito no la carta o mi parla non mi parla ma tra così adesso abbiamo sappiamo dove buttare vi chiedo di lasciare arrivare a questo video almeno 5 like e iscrivetevi al canale e cosa fareste la prossima volta? mi sa che domani faremo questo no non lo so faremo qualche challenge ciao